Signora, buongiorno, siamo nel suo muristenes e quindi lei l'ha ereditato questo muristenes? Sì. Da chi? Da nonno e zielle. Le ricordiamo i nomi? Teodoro Mellai, Francesca, Peppino, Antonia, Elvira. Lei lo tiene benissimo, qui appunto abbiamo il caminetto, vero? Poi anche il soffitto così con la canna e qui c'era un posto dove lo avete utilizzato, lo utilizzate per dormire e siete proprio a due passi dalla chiesa? Sì. Molto bene. Quindi questo muristenes ha più di cento anni? Ebbè, certo, nonna, già è morta a cento anni, è morta nel 2004. E quindi era del 1900 e anche prima, forse anche lì. Nonno era del 1862-65. Quindi diciamo un minimo un secolo e mezzo. Ma guardate un po', si esce da casa e subito voi avete la chiesa di Santa Cristina. Perché prima andavano a Bonacca, poi avevano Bisticciato e Aguilarza. E allora il nonno con questi altri fratelli ha detto, ma non so, quindi hanno fatto le muristenes e la chiesa. Certo, grazie, grazie per questo che ci ha detto e buon tutto, buon cammino. Grazie, a Norbello era lei prima. Esatto. Grazie.